Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti-tappeto Meraban 320X98. I Meraban vengono annodati nel distretto omonimo nella Persia settentrionale. Questi tappeti sono solitamente molto colorati e realizzati con lana di buona qualità. I motivi presentano spesso dei medaglioni. In generale, sono tappeti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questi tappeti fanno parte del gruppo dei tappeti di Amadan. Lavorazione, Noted by Hand. Spessore circa, 8 mm. Pelo, lana, ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie a tutti